cosa ha detto delle scarpe bellissima sì non avevo dubbi cosa questo ma c'è la digol no neanche il tempo anche dopo anni non si cambia signori devo vendere l'oro del tipo così lo luto io ho rubato un po' di oro da dare così spudo su tutto il mondo tranquilla sono morta per forza sono un idiota ma pensavo di essere full ho scoppiato il barilone ero uai hai un po' un pa? sì mio dammelo 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 vabbè è trodato l'ha preso lui me l'ho troppato no ma sono troppo forte sei inferiore cioè ho po' no mamma mia prima volta che ti provo la digol dopo anni e martino non perde ancora non si perde non si perde non lo so non ho toccato nulla io devo fare danni con la pistola ragazzi era scritto madonna sì 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 ho la pistola in una partita sticola però ma che sono sti ma sono i bot questi sì sono i bot no è il boss è la boss ok ho un problema un attimo anche io ho fatto una no vabbè ragazzi mamma mia la digol mamma mia digol è troppo eccitante te lo giuro il boss è quello sotto sì però c'è un player anche sì è morto il player mi sticco la bomba al boss che cosa troppa sto coso cos'è mitraglietta è fortissima ma cos'è ottini vita dalle eliminazioni ma è gente questa che viene può essere oh io sono in bot questo è un player mi sa si è un player allora kick apri le ceste poi dato che la missione le devi fare l'oro per barretti guarda prendilo da terra che fai la missione prendilo da terra ok devi fare l'oro devi fare l'oro questi lingotti se tu li farmi ti danno l'oro questi qua si farò devi lanciarmi ma non c'è ma è bruttissimo sto perca uno noccato l'alto in volo sto cercando dove è ma non lo vedo è sopra te rio non lo prendo mezzavolta ho 20 20 20 20 vinciamo l'osso che mamma prospettiva mia top dietro 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 guardate crack mamma mia 52 crackato di nuovo kick 26 nooo son caduta da fratelli dove vai 26 non morirà sto andando solo di niggas ci vanno solo white oddio no 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 ok aspetta ah ma voglio vincere questo game ok dalla mia prospettiva troppo bello va bene vinciamolo oh l'hai noccato dai 270 metri te lo giuro oh mio dio madonna ce l'ho a pobo mamma mia se fossi maschio ci avrei di costare sotto a fare proprio così vabbè io credo di questo via 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 non l'ho preso non dimentiché non l'ho preso dentro del rift guarda prima dove l'ho noccato adesso vabbè è me snurzo morti pronto salve buonasera arrivederci raga 270 metri con la digola era fenomenale in headshot guarda cosa c'è qui per terra madonna cos'è non mi sono mai piaciute no no sempre odiate è una brutta copia della daigles non mi piace eh sì ho preso in head per quello era bello ma non ce l'ho la daigles se vuoi c'è l'rpg qua no vabbè ma questa clip no questa clip era fenomenale in head 260 metri primo colpo c'è che c'è pompa viola lo prendiamo no ma questa peterita cosa fa spara tipo la mia spara ma cosa cambia perché sali ti porto dai nemici allora doveva la musica la radio c'è c'è' un altro c'è un altro c'è un altro Io l'ho noccato Ma il mate non Ma cosa c'ho? Ah il tattico Quindi c'è pure il P90 Sì sì è tornato È tornato anche il P90 Se vuoi qua c'è una cassa puoi aprirla Ma cosa fai il P90 invece come perca? Il non lo so Apri questa Ma perché Perché hai stato dato un napoletano? Perché è cattivo secondo me Minchia se è cattivo mortacci sua Sì sì non evitiamo del Barrett Tappa ancora Barrett È entrato un hit sono solida All'ultimo team ma mo Ah sono due solo Ma diciamo sto game Troppo bello sto game ti giuro Perspettiva troppo bello Ah comunque sono un idiota E se ti dico perché poi ti farò ridere Dopo te lo dico Eccolo 65 Non so dove Ma C'è anche uno con la macchina Impossibile È lui Guarda Scaccato con la dietro È un hit È l'ultima è un hit Fattelo Mamma mia Solida Solida Mamma mia la digol Quanto mi è mancata Quanto mi è mancata Perfissione 44% 3480 danni Fatti solo con quelle Bellissima la digol Dovrebbero rimettere in arena Quanto mi piace Stupenda raga Stupenda ve lo giuro Stupenda Troppo bella la digol Troppo troppo bella Ma sapere perché sono una cogliona chicca Posso dirtelo? Quanto mi manca raga ve lo giuro Quanto mi manca Che è successo? Ah no Non dovevo fare 500 danni Ah ma no Non dovevo fare danni con la pistola Ma che problemi ho raga? Cioè ho fatto una roba chicca Che non dovevo fare Vabbè Vabbè Ah l'hai fatto per far giocare a me